Per questo ritardo dovuto purtroppo non a una nostra colpa ma a un fatto di tasamento stradale Siamo rimasti ad aspettare, purtroppo l'imbocco del paese è completamente bloccato Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri che ci hanno portato fin qua Quindi ci scusiamo davvero per questo ritardo, vi ringraziamo per averci aspettato Siamo contenti però di essere qua, grazie! Grazie!